E' stato affermato che Meghan Markle e il principe Harry hanno alzato le sopracciglia dietro le mura del palazzo durante un evento del Giubileo di Platino, secondo The Telegraph, la decisione dei Sussex di fare una passeggiata da soli lungo il lungo corridoio della cattedrale di Stipol per il servizio di ringraziamento il 3 giugno ha sollevato le sopracciglia poiché la coppia avrebbe potuto viaggiare insieme a Beatrice, Eugenie e ai loro mariti, che erano seduto accanto a loro sui banchi. I Sussex sono stati avvistati. Venerdì mattina mentre lasciavano Clarence House mentre erano in una capsula di sicurezza con Beatrice ed Eugenie, dopo aver espresso preoccupazione per il loro livello di protezione durante la loro visita. La visita di Meghan e Harry nel Regno Unito per il Queen's Platinum Giubili è stata incredibilmente breve e la coppia ha lasciato il paese prima che le celebrazioni si concludessero domenica 5 giugno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.